Coppie di anziani intossicata dal monossido di carbonio a causa di un incendio divampato nella loro abitazione. È successo questa mattina in località Bello Sguardo, nel comune di Cavriglia. Marito e moglie sono riusciti a mettersi in salvo ed hanno chiamato i soccorsi. Entrambi sono stati portati dai sanitari del 118 al pronto soccorso della gruccia per una lieve intossicazione. Le cause che hanno provocato il ruogo sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Montevarchi, intervenuti sul posto per domare le fiamme e bonificare l'aria. Presente anche la polizia municipale. L'abitazione ha riportato ingenti danni.